Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Andranno a buon fine? Auguriamoci di sì, di fatto la ricerca di medici specialisti non va certo in vacanza. L'impegno per reperire almeno in parte il personale che manca e che appunto non essendo a disposizione di fatto ha finora costretto a soluzioni anche molto penalizzanti per l'utenza e i potenziali pazienti, l'impegno quello c'è, come c'è stato anche in passato, seppure con esiti per nulla soddisfacenti. A SST Valtellina Alto Lario sta per bandire infatti quattro concorsi per la ricerca di medici specialisti in possesso dei requisiti per dirigere le unità organizzative complesse di geriatria, malattie infettive, pneumologia e tisiologia. La richiesta, inoltrata alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, è stata accolta e proprio nei giorni scorsi l'azienda è stata autorizzata alla copertura delle quattro strutture complesse. La geriatria ha un direttore facente funzioni, la dottoressa Michela Passamonte, così come la pneumologia, il dottor Leonardo Iannacci. Per quanto riguarda la tisiologia e le malattie infettive, i direttori individuati saranno chiamati a dirigere le nuove unità organizzative complesse appena attivate, in sostituzione della struttura semplice che le riuniva e che afferiva alla pneumologia. A SST Valtelliene Altolario, appena è stata autorizzata da Regione Lombardia, ha deliberato i bandi e, come da prassi, ha inviato la richiesta di pubblicazione alla gazzetta ufficiale. Entro poche settimane i bandi saranno pubblici e gli aspiranti direttori potranno presentare le proprie candidature.